oggi torniamo nelle nostre vallate partenza da fontana bianca proviamo a fare il giro dei quattro laghi della val d'ultimo che in realtà non l'abbiamo mai fatto vero? vediamo se questo tempo ci lascia esatto diciamo che mettiamo in preventivo di prendere un pochettino di acqua speriamo di sbagliarci e niente vediamo com'è questo giretto vai lì vai lì vai lì vai lì ma che se cadi non è che devi andare a far più fatica di quello che serve vai tu vai 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 grazie 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 per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Ho sentito Grazie a tutti